un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono sempre un grande saluto a tutti seguitemi seguitemi ecco ricordiamo i tuoi canali e vabbè io ho delle pagine dei social di cui si occupano altri amici a mio nome quindi basta cercare il mio nome lo trovate perfetto io ti ringrazio ti regalo questo che è la manina del salutatore ecco qua ecco il salutatore prima grazie ciao ciao l'inviato no seguivo